Dopo il piano strategico l'amministrazione comunale prosegue in questo percorso. Sì, questa è la presentazione di un gruppo di giovani professionisti e professioniste molto qualificati in varie discipline per elaborare dei pensieri sulla città. Loro chiamano un pensatoio, tradotto in italiano un think tank, e di mettersi in collegamento con altri pensatoi di altre città per guardare al futuro. Quindi l'individuare dei punti di azione e condividerli con le intelligenze della città, ma anche la gente, fa crescere un'identità che consente a tutta la città di muoversi in una direzione per vincere delle sfide future. Quindi prossimamente ci presenteranno un programma mirato e tempestivo di alcune cose. Questa è un'altra frontiera che si confronta con la Convenzione di Faro, quindi con progetti pilota che possono dare tanta soddisfazione e identità alla città e aprirla sempre di più al mondo con ricadute positive. Io penso che si lavorerà sia su concetti materiali, come i monumenti su cui già stiamo investendo per promuoverli sempre di più e riempirli di contenuti, ma anche sui concetti immateriali, pensate al carnevale, pensate ai beni culturali della città, ai fondi storici, archivistici. Dipende appunto se un lavoro in continuità che viene fatto, si seminano delle idee e poi gli si danno le gambe. Questo per non fossilizzarsi su cose già in parte conseguite, ma per lasciare anche un'eredità a chi verrà dopo.